ok ciao a tutti oggi faremo un unboxing di lego sei chi no lego? di lego adesso vi racconto la storia eravamo in novembre per porche dovevano venire degli amici del papà che sono venuti e quando sono arrivati mi hanno dato questo regalo perchè mi vogliono venire non per il compleanno perchè l'ho compiato due anni fa magari il regalo no 5 mesi fa l'ho compiuto quindi non ho pagato il regalo per il compleanno non so perchè mi vogliono venire ce la mia cuffia non è questo regalo e li ringrazio tantissimo perchè mi piace molto adesso vi farò vedere cosa c'è dentro e come si fa adesso ve lo faccio vedere meglio taran tu vai qua? è un lego che si chiama lego break head adesso ve lo spiego è un gioco sono dei lego dove con i lego puoi crearti te stesso come questi bambini due non trovate una certa somiglianza non trovate una certa somiglianza non trovate una certa somiglianza perchè qua ci sono molti molti altri però noi non faremo questi ma faremo me e un gioco che vado da mia cugina e poi li scambierò farò mia cugina mio papà mio zio una tia una tia una mamma che mica d'ora ok prima di farlo vi faccio vedere cosa c'è dentro è durissimo è durissimo è così determina dai hai il dito troppo sono troppo bambina tu credete che lo sapevi aprire eh grazie tenta con le forbici vuoi che ho delle mani di ferro prendi mani di forbici non ce la faccio che vita brutta dai ti aiuto io no lo voglio fare da sola tanto dopo ce n'è un altro da aprire quindi si scusate ragazzi ho avuto un problema quindi me la perco qua semplicemente con un dito come si poteva immaginare ci sono dei Lego ma chi pezzi sono? 80 mila è troppo di pesca quello? è il coso che si spiega come si fa come li fa bene poi ce l'ho per l'altro altri 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 quello? stickers 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 non è bene ok ci sono dei pezzi arancioni dei pezzi gialli dei pezzi marroni chiari marroni e colorati e cosa come si fa ok iniziamo? sì super per quelli che anche loro non hanno capito all'inizio si incomincia dal corpo perchè io avevo capito l'incomincare della testa Sono andata a pagina 14, però ho capito che mio papà ha capito che non era la testa ma era la capigliatura di quelli che fate. E bisogna partire dal corpo, cioè dalla prima parte. E adesso prendiamo. E dovete partire dal sacchetto numero uno. Ok, partiamo. E infatti non ci posso credere, c'è anche un sacchetto con mezzo sacchetto, con mezzo sacchetto, con mezzo sacchetto, con mezzo sacchetto. No, non so ne serve. Poi gli unici servono questi. Ecco. Ci sta. Ah, sì, ci sta. Invece dodici ci serve uno di questi. Ci mettiamo qua. Sì, qua. Poi dodici trelici. Ok, come va? E così. Va a vedere. Si perde lo. Si sta già formando? No, 14, 15, uno di questi. Questo qui. Poi ci serve sempre qua. Sì. Questo. Sì, questo. Questo qua. E questo qua. E questo qua. Uno di questi. E due di questi. Uno di questi. Prima mettiamo questo ancora qua. Questo qua. dopo un'ora ce l'ho fatta fare. Ehm, l'ho fatta tutta da solo da solo. Ehm, un pezzo dove eri in crisi la mamma mi ha aiutato a fare i capelli. piccolini. Ok, fa vedere bene se ti assomiglia. Ti assomiglia? Sì. Mi ha messo anche la valigetta perché mi piace. Mi ha messo anche la valigetta perché mi piace. Eh. Ma è proprio bello. Dove lo mettiamo? In camera mia. Bene. No, restate con noi. No, restate con noi. Con me. Ui, frate. E' proprio così stanno. spero che mi sia piaciuto questo video e ringrazio ancora una volta Mattia e la Federica la Federica per questo regalo stupendo ciao ci vediamo nel prossimo video e mettete un pollicione se avete qualche domanda su questo bellissimo gioco scrivetemi qui sotto e vi volevo comunicare che di questi nella scatola si possono fare due ok ciao